Allora raga, una teglia di coperta con un canovaccio di solito vuol dire una sola cosa, c'è un impasto che sta lievitando. Io ho preparato una pasta per la pizza facilissima, lievitazione anche abbastanza veloce, e la utilizzeremo per fare dei panzerotti al forno farciti di salami, porri e mozzarella, una bomba. Vediamo come si fanno. Quindi gli ingredienti, pasta per la pizza che adesso vi spiego. Il salamino negronetto protagonista del nostro ripieno, due porri, della mozzarella fior di latte, un po' di peperoncino per dare del piccantino al porro, ovviamente del sale, un pochettino di grana padano per andare ad arricchire ulteriormente di sapore i nostri porri. Quindi partiamo subito. Allora io ho già iniziato a tagliare i porri, li ho tagliati a metà per il lungo in modo da avere una parte piatta e lavorare bello comodo, li trito semplicemente tagliandoli a fette. Ho già messo su una padella con un goccettino di olio, dobbiamo andare a stufarli. L'obiettivo in questo caso è fargli perdere tutta l'acqua ai porri. Quindi metteremo semplicemente un po' di sale e li cuociamo finché belli asciutti, perché siccome vanno in un ripieno non dobbiamo rischiare di avere troppa umidità. Inizio a metterli su. Perfetto. Iniziamo a fiamma media con un cucchiaio di legno, andiamo a mescolare. Mettiamo subito un bel pizzico di sale in modo che il porro perda la sua acqua più facilmente. e cuociamo per circa 10 minuti e nel frattempo ci dedichiamo al resto del ripieno che è facilissimo. Dimenticavo il peperoncino. Potevo metterlo nell'olio per insaporire, ma io qua lo vado tranquillamente a sbriciolare all'interno dei porri. Questo semplicemente per dargli una parte piccante che scelgo di mettere io se non mi piace, ragazzi. Non lo mettete, assolutamente. Allora, il salamino negronetto vogliamo tagliarlo a fette abbastanza spesse, perché poi andremo a fare dei cubi. Anche qua potete tranquillamente scegliere il taglio che preferite. Io vi consiglio di fare delle fette spesse e poi dei cubi per avere un po' di consistenza e masticare bene. Tutte tagliate a fettone spesse, compreso il culetto che però è per me la parte migliore. Salame, tutto cubettato, ce lo mettiamo da parte. Oltretutto è anche perfetto per la degustazione mentre si lavora in formato a cubi. Mozzarella, la taglio. Anche questa a cubi è abbastanza grande. E qua l'unica operazione da fare, raga, è di andare ad asciugarla un pochettino. Prendo due fogli di carta assorbente, voilà, e ce la vado a mettere sopra. Un altro strato sopra, schiaccio bene e me la tengo così finché non devo utilizzarla nel ripieno. Cioè tra pochissimo, ci manca solo un passaggio. Grattugiamo un pochettino di grana padano all'interno dei porri che ho fatto cuocere, ricordiamolo, circa 10 minuti. Adesso li ho messi in un piatto per raffreddare leggermente e ci grattugiamo sopra il nostro grana padano. Saranno circa 30 grammi di formaggio. Adesso arriva la parte divertente della ricetta in cui finalmente si va a lavorare il nostro impasto che ho preparato prima. Allora intanto mi cospargo bene il piano di farina e prendo il mio panetto. Intanto vi spiego come l'ho preparato. Allora la ricetta è 250 grammi di farina 00, 150 grammi di acqua tiepida in cui scioglieremo 12 grammi e mezzo di lievito, mezzo panetto, e un cucchiaino di zucchero. Poi abbiamo 15 grammi d'olio e cosa dimentico? 5 grammi di sale. Prima cosa, lievito più acqua più zucchero sciogliere insieme. Rovesciamo in una bella ciotola grande perché dobbiamo poter lavorare comodi. E aggiungiamo i 15 grammi d'olio. Poi mettiamo 2-3 cucchiainette di farina e le lavoriamo fino ad avere una specie di pastella. E lì mettiamo il sale. Importante questo perché il sale non deve entrare a contatto assolutamente con il lievito. A quel punto possiamo mettere la restante farina. Continuare a impastare fino ad avere un panetto compatto. Lo lasciamo nella ciotola coperto con pellicola. Lievitare in forno con la luce accesa due ore. Dopo facciamo i panetti, questi qua, circa 70 grammi a panetto. E poi li andiamo a stendere come stiamo facendo adesso. Allora, vedete come riesco a stenderlo facilmente anche solo con le mani. Questo non ho usato mattarello. E l'impasto non tende a tornare verso il centro. Rimane bello steso. Questo vuol dire che l'abbiamo fatto riposare bene ed è lievitato alla perfezione. Quindi quando abbiamo una situazione di questo genere, cerchiamo di allargarcela un pochettino per avere comunque una situazione più o meno tondeggiante. E poi possiamo mettere il ripieno. Ho fatto cinque panetti, quindi orientiamoci con gli ingredienti e li dividiamo un pochettino a occhio. Quindi vado a mettere il mio salamino negronetto. Abbondo, sono cinque cubetti per porzione. Facciamo sei, va? E qualche cubettino di mozzarella tre o quattro o cinque. Poi vado semplicemente a ripiegarlo su se stesso e poi schiaccio bene. Quest'operazione può essere fatta o a mano ripiegandoli, ma io mi sento più tranquillo a farlo con la forchetta in modo che riesco a sigillare benissimo i bordi. Dopo aver usato la forchetta per essere al 100% sicuri che nulla ci fuoriesca, lo andiamo ad arrotolare un pochettino e gli diamo anche la forma tipica del panzerotto perché il panzerotto ha sempre la sua piccola cornice. E raga, questi sono pronti per andare in forno. Preparo tutto e poi inforniamo. Ah, dunque i miei panzerottini sono pronti. Ne ho messi solamente quattro in teglia perché il quinto non mi ci stava. Un pochettino cresceranno, quindi li ho voluti distanziare bene. Metto un cucchiaino, mezzo cucchiaino scarso d'olio su ognuno e li vado un pochettino a massaggiare. Non ho il pennello, se avete il pennello fate un lavoro migliore. Un goccettino d'olio andiamo semplicemente con la punta delle dita a distribuirlo un pochettino bene in superficie. E poi questi se ne vanno in forno a 230 gradi o la massima temperatura che legge il vostro forno, ventilato. 15-20 minuti. Ci vediamo dopo la cottura. Pronti! Allora, dopo un quarto d'orina, eccoli qua. Va che belli. Mica male, eh? Adesso li tagliamo e vediamo come sono dentro. Allora, bello croccante l'esterno. E bello fuso l'interno. Adesso sarà tipo a, non lo so, 96.000 gradi, quindi aspetterei un paio di minuti e poi lo assaggiamo. Guarda qua che ripieno! Tutto stratificato perfetto! Oltretutto ha un profumo meraviglioso, il salame tagliato così a pubi grossi. Va bene perché non si cuoce troppo e non cambia sapore. Assaggiamo? Molto buono! La sapidità del salame incontra perfettamente il porro, che è un pochettino dolce, quindi va a smorzare il tutto umito dalla mozzarella morbida. Un bel panzerotto, un bel panzerotto e un ottimo ripieno. Ragazzi, vi ho già spiegato come farlo. È facilissimo da fare. Preparate l'impasto in anticipo il pomeriggio, così arrivate perfetti per l'orario dell'aperitivo. Ci accompagnate una bella birra ghiacciata e ragazzi, aperitivo servito con salamino negronetto pazzesco. Rifatelo a casa! Ciao raga! Ciao! 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 Ciao!